Il cristianesimo è una religione monoteista, fondata cioè sulla fede in un solo Dio, che crea l'universo e tutti gli esseri viventi e che si fa uomo nella persona di Cristo. Dio è concepito come una trinità nelle persone distinte del Padre, del Figlio, ovvero Gesù, e dello Spirito Santo. Gesù è il portatore di un messaggio di salvezza per tutti gli uomini, anche i malvagi, che possono pentirsi e ottenere, dopo la morte, la vita eterna. La salvezza si ottiene principalmente esercitando la carità, un atto d'amore verso tutte le creature e verso Dio. La religione cristiana ha una dimensione rituale e di preghiera che accompagna l'uomo in tutta la sua vita. In tal senso è centrale, in quasi tutte le confessioni, il ruolo della Messa, cioè il rito che celebra il sacrificio di Gesù. Le principali festività cristiane sono la Pasqua, che commemora la resurrezione di Gesù, e il Natale, che ne ricorda la nascita. Una festa quest'ultima, riconosciuta e celebrata in quasi tutto il mondo.